Ciao ragazzi e benvenuti in una puntata in cucina. In questo video vi voglio mostrare una ricetta semplicissima adattante per i vostri figli. E per farlo basterà un uovo, o quante uova preferite voi, dipende da quante persone siete, e il salame. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è non trabollire l'uovo, anche perché deve diventare sodo. Una volta che inizia a bollire, lasciate bollire il vostro uovo, o le vostre uova, per almeno 5 minuti. Adesso che sono passati i 5 minuti, andiamo a rompere il nostro uovo. E per finire, con un cilindro, questo è metallo, andiamo a fare un buco. Facendo molta attenzione a non spaccare l'uovo a metà. Poi prendiamo una fetta di salame, e lo mettiamo all'interno. Questo sarebbe il risultato finale. Spero che il video vi sia piaciuto. A presto! Grazie!